oggi faremo un percorso dietro casa discesa molto carina per l'occasione siamo in 123 grossini e quattro grossini oggi c'è anche andrea evviva andrea erzimo cristian zio sam e andrea gigi evviva pronti ok reggiti andrea è ma stiamo andando un po troppo forte oh stiamo andando forte andrea è vero ottimo consiglio erzimo cosa vuoi dire ai tuoi amici ascoltatori bravo allora io aggiungo che è un percorso ideale per chi vuole iniziare giusto è importante indossare il casco ed avere comunque l'impianto frenante ed avere l'impianto frenante efficiente ne vale veramente la pena guarda che bello questo tratto attenzione bravo erzimo che ci delizia con i suoi numeri e si lo vedo guarda che bella sta tratto tutto di roccia adesso viene il tratto più divertente reggiti andrea reggiti eh ma ci sono dei tratti comunque impegnativi eh sei qua? si è divertentissimo oh andrea si sta divertendo tantissimo eh tutti sono divertentissimi cristian te andrea senti andrea reggiti hopla siamo saltati sul tronco andrea andrea gli scrivono il mio canale team grossini ti ha tagliato hai tagliato oh reggiti bellissimo figo vero guarda che bei passaggi passaggi bravo simo oh bene così benissimo bravo oh oh reggiti oh oh yeah Che dire? Bellissimo! A Cristian? Andrea? Andrea? No, Andrea niente.